ciao mi chiamo lucia e questo è il mio nuovo canale di cucina che si chiamerà c'è luce in cucina non a caso perché il mio messaggio quello che voglio trasmettervi è questo io sono una persona non vedente e cioè una persona detta diversamente abile ma io mi reputo una persona veramente abile e quindi vorremmo farvi vedere le mie capacità che possono anche quelle di tante altre persone voglio lanciare questo messaggio accedete la vostra luce quella dentro che vi aiuterà a fare tante cose sia se avete problemi fisici come quelli che ho io e sia semplicemente non vi sentirete in grado di fare le cose spero di incoraggiarvi e di aiutarvi in questa ricetta nella mia prima ricetta io vi proporrò il babba napoletano ho rivisitato in un modo un po speciale natalizio andiamo a preparare il prossimo flash